Buonasera e ben ritrovati alla seconda edizione di Calabria News ventiquattro in forma. Iniziamo il nostro telegiornale con il punto covid nella nostra regione. Sono duemila centotrenta quattro i positivi di oggi secondo il bollettino ufficiale della regione Calabria. Quattro invece i deceduti di cui due a Cosenza e due a Reggio Calabria mentre invece novecentosessanta quattro sono i gueriti. Passiamo adesso invece alla cronaca perché una bambina ucraina di cinque anni arrivata da alcuni giorni in Italia con la sua famiglia in fuga dalla guerra è morta dopo essere stata investita da un'auto in località Cantorato nella periferia di Crotone. La piccola stava camminando sul ciglio della strada insieme ad una cugina e ad un conoscente di quest'ultima che è rimasto ferito in modo non grave. Fuggita dalla guerra in cerca di un mondo migliore ma non sapeva che la sua vita sarebbe finita così presto proprio dove sperava di fiorire. È stata investita a Crotone una bambina ucraina di soli cinque anni arrivata da pochi giorni da uno di quei tanti bus che portano in salvo centinaia di profughi lì dove il tempo sembra essere tornato indietro. La bambina che si era stabilita da pochissimo con la sua famiglia nella città pitagorica stava attraversando la strada insieme ad altre persone quando un'auto l'avrebbe travolta in località Cantorato nella periferia di Crotone. Il conducente è un uomo di 45 anni. Si sarebbe fermato lui stesso a prestare i primi soccorsi ma non c'è stato nulla da fare. Subito dopo sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Crotone che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. La bambina è morta sul colpo insieme ai suoi sogni e ai suoi giocattoli lasciando ai grandi un mondo crudele nel quale evidentemente non c'era spazio per la sua purezza. E nella giornata della memoria dell'impegno per le vittime di mafia andiamo a Catanzaro dove l'Associazione Libera Catanzaro ha organizzato una manifestazione dal titolo Terra Mia Cultura Cultura Ricordare è importantissimo, ricordare serve ad avere memoria di quello che è stato, serve a ricostruire e a far crescere germogli nella nostra coscienza per non ripetere, per combattere l'illegalità in questo paese, per diventare cittadini responsabili da questi nomi, da queste storie, da questi volti, di queste che ricordiamo oggi deve partire il nostro impegno. Noi oggi leggeremo gli oltre mille nomi delle vittime innocenti delle mafie. La giornata del 21 marzo è una giornata di memoria e di impegno. Noi dobbiamo ricordare i nomi perché insieme ai nomi noi ricordiamo le storie delle persone, delle vittime innocenti. Ma il 21 marzo è anche una giornata di attestazione, di denuncia della presenza delle mafie, dell'andrangheta qui in Calabria e quindi con questa giornata noi vogliamo dire ai ragazzi, soprattutto perché saranno quelli presenti nella giornata di oggi, di stare attenti e di rendersi conto che il loro comportamento è davvero necessario, importante perché questo cambiamento all'interno della nostra terra possa verificarsi. Tanti giovani presenti per ricordare le vittime della mafia, quanto è importante tenere bene in mente questa cosa per voi giovani? Penso sia molto importante, specialmente nel contesto in cui viviamo, comunque nella nostra città che è una cosa che conoscevo abbastanza bene ed è giusto ricordarla proprio perché dobbiamo imparare dal nostro passato per essere migliori. Passiamo invece adesso a Crotone dove i pescatori della zona sono in protesta al porto della città pitagorica a causa delle royalties a loro danno. Anche in queste settimane abbiamo avuto delle interlocuzioni con il presidente della provincia di Crotone, abbiamo notato una sensibilità sulla problematica che deve trovare una soluzione definitiva. Noi ci aspettiamo che nel nuovo accordo di programma che è già scaduto vengano inseriti nuovamente i pescatori perché sono loro al centro di un diritto che è stato disconosciuto e su cui deve essere necessariamente di nuovo riconosciuto perché sono i pescatori ad avere il danno maggiore perché non possono uscire a pescare in alcune aree. Indipendentemente da quanto Leni estrae per noi il danno è sempre lo stesso quindi nel nuovo accordo di programma ci aspettiamo che le istituzioni preposte possano far rientrare tra i vari attori coloro che in qualche modo non solo lavorano in mare ma penso siano i palladini della difesa del mare e quindi su questo il sindacato continua a manifestare le preoccupazioni, i disagi e anche le tante divisioni che ci sono rispetto a determinate idee sulle questioni. Noi invece siamo convinti che i pescatori debbano avere questo contributo per il mancato pescato e lo devono avere nel miglior, nel tempo diciamo non c'è più tempo, non c'è più da aspettare. È un diritto che deve essere riconosciuto ed essere riconosciuto nell'immediato. Se davvero si vuole non solo difendere questo comparto ma rilanciarlo. Come vedete questa ulteriore crisi che è arrivata con il caro gasolio sta mettendo a dura prova, sta mettendo in ginocchio l'intero comparto che già vantava diverse numerose criticità causate dalle normative europee e anche da una mancata strategia che questo comparto deve avere su cui bisogna necessariamente investire per permettere un ricambio generazionale che per noi è fondamentale per fare in modo di tutelare le nostre specificità ittiche ma fare in modo anche di avere un ricambio tradizionale quindi far avvicinare i giovani a questo comparto che poi la pesca crea un indotto importante nelle comunità costiere ed è su questo che noi vogliamo fare la nostra parte per cercare di garantire diritti e di difendere un settore che per noi è di straordinaria importanza. E invece adesso passiamo alla politica perché Rosaria Succurro è il nuovo presidente della provincia di Cosenza, candidata del centro-destra, eletta con oltre il 42,25% e la prima donna alla guida dell'ente. La provincia di Cosenza si tinge di rosa con l'elezione di Rosaria Succurro, sindaco di San Giovanni in Fiore, candidata di Forza Italia, ora alla guida dell'ente provinciale cosentino. Prima donna presidente ha ottenuto il 42,25% dei voti. Al secondo posto si piazza Ferdinando Nociti del centro-sinistra, presidente facente funzioni della provincia dopo l'elezione di Franco Iacucci a consigliere regionale della Calabria. Nociti, sindaco di Spezzano albanese, ha riportato il 38,30%, corrispondenti a circa 31.000 voti ponderati. Terzo, Flavio Stasi, primo cittadino di Corigliano Rossano, anche gli di aria centro-sinistra con il 19,46%, pari a 15.691 voti ponderati. Le schede bianche sono risultate 539, quelle nulle 559. E' grande la mia emozione, ha detto Rosaria Succurro, per essere il primo presidente donna della provincia di Cosenza, che raccoglie un territorio tra i più vasti del paese. Lavorerò da presidente dell'ente intermedio, facendo da collante tra i comuni e la regione, con un rapporto costante con i 150 sindaci della provincia. Mi impegnerò a continuare a Succurro, in primo luogo, per restituire alla provincia di Cosenza la centralità politica e istituzionale che merita. Beh sì, per la prima volta la provincia di Cosenza ha un presidente donna, spero di poterla veramente rappresentare al meglio, grazie a questa grande fiducia che mi hanno dato la maggior parte degli amministratori della provincia. Una provincia splendida, una provincia che sicuramente merita tanta attenzione ed è quella che non farò mancare al territorio, ma soprattutto agli amministratori. E questa era l'ultima notizia, io come sempre vi ricordo il nostro appuntamento con il Tg di Calabria News 24, tutti i giorni alle 13.30 e alle 19.00, grazie per averci seguito.